Ben trovati telespettatori di Teledauna e benvenuti all'appuntamento con l'informazione dei Monti Dauni in collaborazione con il settimanale Il Veltro. Monti Dauni, protagonisti dello sviluppo e del turismo di Puglia, grazie al sistema della comunità ospitali. Presentato ieri a Bari, presso la sala stampa della Presidenza, il nuovo progetto firmato Borghi Autentici d'Italia ed Agenzia Puglia Promozione. È proverbiale la virtù del classico cittadino dei Monti Dauni che alla richiesta di un'informazione stradale non solo ti indica il posto, ma ti ci accompagna, narrandoti la storia di quella via, spiegandoti qual è la pietanza di cui si sente il buon profumo per strada. Il sistema di comunità ospitale, presentato da Borghi Autentici d'Italia e dall'Agenzia Puglia Promozione, i paesi dei Monti Dauni ce l'hanno nel sangue e sono pronti a fare scuola nel campo. Se ne è parlato giovedì 2 marzo a Bari, presso la sala stampa della Presidenza. In rappresentanza dei Monti Dauni il sindaco di Biccari, nonché delegato regionale dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, Gianfilippo Mignogna, che ha presentato i Monti Dauni come risorsa per ampliare e completare l'offerta turistica della Puglia, obiettivo raggiungibile solo con lo stare insieme. Quello delle comunità ospitali Monti Dauni è un progetto innovativo, spiega l'assessore allo sviluppo economico e all'industria turistica e culturale della regione Puglia, Loredana Capone, volto a rendere il turista per tutto il tempo della durata del suo soggiorno cittadino temporaneo della comunità ospitante. Il progetto prevede la realizzazione di una casa dell'ospite, la figura dei tutor dell'ospite, giovani che conoscono e amano il territorio e che si occuperanno della prima accoglienza. Si tratta di un turismo diverso, afferma Ivan Someo, presidente Bai, pensato per chi è alla ricerca di genuinità e desidera effettuare un'esperienza di vacanza autentica, entrando nel ritmo della comunità locale. Al centro dell'offerta ci sarà la bellezza autentica dei Monti Dauni, con la loro storia, cultura ed enogastronomia. 365 giorni l'anno a 360 gradi, sostiene Luca Scandale, responsabile del piano strategico del turismo Puglia 365. Passiamo ora all'annoso problema della viabilità Dauna. Per scoprire qual è il destino delle strade Daune, si aspetta il consiglio provinciale, convocato dal presidente della provincia di Foggia, Francesco Miglio, per il 14 marzo. Invitati anche i sindaci dei Monti Dauni, per un momento di confronto sul piano di interventi stilato in ordine di importanza. A tal riguardo, buone notizie per la Lucera Sansevero. L'amministrazione provinciale intende infatti spendersi molto per questa arteria, fondamentale per il traffico di capitanata. La provincia farà ricorso alle risorse proprie per finanziare il progetto, messi a disposizione 2 milioni e mezzo di euro. Su questo punto l'amministrazione provinciale intende spendersi e investire molto. La strada Sansevero-Lucera, la SPI 109, è una strada molto importante perché collega un territorio importante come quello di Lucera dei Monti Dauni alla dorsale adriatica, quindi ha una valenza strategica notevole anche per il territorio. Per questo motivo la provincia, facendo ricorso a risorse proprie, quindi integralmente attinte dal bilancio dell'ente, ha ritenuto di dover dare impulso a questo intervento, che io mi auguro che nel corso del mandato amministrativo possa trovare completamento. Nel senso, non completa canterizzazione, ma quantomeno entro l'ottobre del 2018, io spero possano essere adottati gli atti amministrativi propedeutici alla completa canterizzazione dell'opera. Per intanto, incominciamo con questo tratto che è già molto importante ed è un impiego non da poco di risorse, parliamo di circa 2 milioni e mezzo di euro cash messi a disposizione sull'Unghia da parte della provincia di Foggia che in questo momento, come tutte le province, certamente non gode di sana e robusta costituzione da un punto di vista economico, però perché le risorse non sono tantissime. Una novità invece per la viabilità delle aree interne, soprattutto per il comune di Anzano di Puglia, il paese con la minore estensione territoriale, isolato e abbandonato dalle istituzioni. Ai nostri microfoni lo sfogo del vice sindaco del paese, Antonio Marotta. Noi, al di là del fatto che siamo un paese con l'estensione territoriale molto piccola, ma i grossi disagi che noi abbiamo, ma in generale i comuni dei Monti Dauni, sono soprattutto quelli della viabilità. Abbiamo frane e smottamenti un po' dappertutto. Vuoi che anche la situazione meteorologica di quest'anno abbia inciso pesantemente e quindi il problema della viabilità e dei collegamenti, basta solo pensare che noi per arrivare a Foggia impieghiamo quasi un'ora. Quindi le lascio immaginare il disagio che hanno, soprattutto magari i vecchietti che devono raggiungere presidio, punti di primo intervento, l'ospedale o quant'altro, perché per una qualsiasi visita poi ci si rivolge all'ospedale di Foggia e le complicazioni sono tante per tutte le famiglie. Poi è un paese dove la maggior parte delle pensioni sono anziane e spesso non hanno l'assistenza dei figli che per problemi di lavoro sono altrove o addirittura all'estero. La situazione non è molto semplice e ovviamente tutte queste difficoltà non fanno altro che incidere anche sullo sviluppo di un paese, perché non avere la viabilità vuol dire anche non poter garantire dei supporti minimi anche alle attività commerciali. Quindi è una situazione generalizzata questa. Rimaniamo sul tema viabilità dei Monti Dauni, in modo particolare parlando dei sentieri turistici come la via Francigena. Il dirigente della provincia Stefano Biscotti con la consulenza di Michele del Giudice del CAI Foggia e del professore infante dell'Università degli Studi di Foggia annuncia che si riprenderanno i lavori che avevano interessato il tratto Faeto-Lucera. Verrà rivisto inoltre e reso fruibile il tratto che da Lucera arriva fino a Monte Sant'Angelo, poi scende lungo la costa fino a Zapponese, Si verificherà anche l'altro percorso che da Faeto passando per Orsara di Puglia arriva a Cerignola e si amplieranno gli itinerari collaterali. Ora una notizia di cronaca. La redazione di Chi l'ha visto, nota trasmissione di Rai3, nei giorni scorsi ha trattato il caso di Mario D'Amelio, scomparso da Casalvecchio di Puglia dal 18 novembre scorso. Nel corso della trasmissione il padre di Mario ha lanciato l'ennesimo appello. La macchina di Mario D'Amelio è stata ritrovata a Marina di Chieuti. 39 anni, questo è il profilo, professione restauratore, Mario D'Amelio porta gli orecchini e ha vari tatuaggi. Al momento della scomparsa indossava un piumino azzurro. Il 18 novembre scorso l'uomo tornò a casa dopo il lavoro, si fece una doccia e uscì. Da allora nessuna notizia. Rimaniamo sulla cronaca e parliamo del caso di Michele Marchese, il 53enne di Castelluccio, Valmaggiore, che aveva ucciso un ladro introdottosi in casa sua per rubare. Arriva ora la sentenza del tribunale di Foggia. Marchese ha sparato al buio per difendersi. L'omicidio è quindi colposo. All'interno dell'annoso e controverso dibattito politico-legislativo sulla legittima difesa, arriva a Foggia una prima sentenza giudiziaria. I giudici accolgono la tesi difensiva dell'avvocato di Michele Marchese, Gianluca Orsitti, affermando che il 26 agosto 2015 l'uomo sparò al buio, senza poter vedere, contro il cerignolano Antonio Di Ciomma introdottosi nel suo fondo agricolo con altri tre malviventi. Marchese, 53enne di Castelluccio, Valmaggiore, quella notte fu svegliato dal figlio, preoccupato per alcuni rumori avvertiti in azienda. Imbracciato il fucile, sparò due colpi verso alcune ombre in lontananza, ma colpì in pieno la vittima alla schiena. Fu lo stesso Marchese ad allertare i carabinieri dopo l'incidente, che ritrovarono la vittima con ancora il passamontagna. Ora, con il riconoscimento dell'omicidio colposo, la pena di un anno all'imputato è stata sospesa con la condizionale, rispetto ai dieci anni per l'omicidio volontario richiesti dall'accusa. Grido d'allarme delle associazioni ambientaliste sui lavori di potenziamento della ferrovia foggia a Caserta in corrispondenza della stazione di Bovino. Le operazioni comprometterebbero l'alvio del Cervaro e porterebbero all'abbattimento degli alberi lungo il corso del torrente. Servizio di Emanuele Facilongo. Centinaia di alberi abbattuti in prossimità del torrente Cervaro nei pressi della stazione ferroviaria di Bovino e gli ambientalisti non ci stanno. Uno scempio, questo è il loro commento sui lavori di potenziamento della tratta ferroviaria Foggia-Caserta nell'ambito del progetto Alta Capacità che prevede il raddoppio del binario. La ferrovia costeggia il fiume proprio nel Vallo di Bovino dove le ferrovie dello Stato stanno eseguendo opere di consolidamento della tratta. Lavori contestati dalle associazioni ambientaliste e soprattutto dal centro studi naturalistici della provincia di Foggia contrario sin dall'inizio a interventi che comportano l'eliminazione della vegetazione ripariale con gravi conseguenze naturalistiche. Il disastro ambientale continua, compromettendo l'alvio del Cervaro scrivono i rappresentanti dell'associazione ambientalista riteniamo che sia possibile e indispensabile un equilibrio tra la messa in sicurezza del territorio e la tutela della biodiversità ricordando che i corsi d'acqua costituiscono veri e propri corridoi ecologici da preservare. I Monti Dauni pur nella loro moderate risorse sanno fare enormi passi avanti. Celenza Valfortore nonostante i tagli imposti dal governo agli enti locali è andata oltre e ha finanziato progetti e servizi a sostegno della comunità con fondi del bilancio comunale riuscendo a realizzare una vera e propria rete di servizi sociali e sociosanitari dalle borse lavoro al telesoccorso, passando per il servizio civile ludoteca e biblioteca per ragazzi, la sezione primavera dell'asilo nido un piccolo e virtuoso modello di welfare che pochi possono vantare possibile solo grazie alla conoscenza del territorio La nostra idea di welfare, sottolinea Massimo Venditti, sindaco del paese è basata sul concetto di partecipazione e sussidiarietà oltre che di assistenza Il nostro obiettivo è il miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini La cultura ora, grande risultato per l'associazione Articolo 9 di Troia che entra a far parte di Italia Nostra, da sempre leader nel campo della tutela del patrimonio materiale ed immateriale di ogni città Tonio Sefa Importanti novità per il gruppo Art 9 i beni culturali troiani attivo dal 2014 sul territorio per la tutela del patrimonio culturale sia materiale come monumenti, centro storico e paesaggio sia immateriale come il dialetto e la storia del paese Vista la comunità di Intenti con l'associazione Italia Nostra che da più di 60 anni opera sul territorio nazionale per la tutela dei beni culturali e che già si avvale di altre tre sezioni nella capitanata il gruppo ha deliberato di aderire all'associazione costituendone la sezione di Troia Tra i progetti della sezione appena costituitesi ci sono il recupero, la tutela degli affreschi di San Domenico la tutela e catalogazione dell'archivio vescovile e dell'archivio storico comunale la valorizzazione del centro storico, del museo civico di Troia del dialetto e delle tradizioni popolari Per fare ciò Luigi Rauseo, coordinatore del gruppo Art9 e i beni culturali troiani si augura di trovare spunti di dialogo e collaborazione con gli organi preposti alla tutela dei beni quali l'amministrazione comunale, la diocesi e la sopraintendenza Siamo convinti che la sezione di Italia Nostra sul territorio potrà essere un impulso per prendere coscienza dei beni culturali della nostra città e delle opportunità che questi ci possono offrire, afferma Rauseo ma per raccogliere il massimo frutto c'è bisogno di proteggere il nostro millenario patrimonio e cooperare alla sua valorizzazione Con ben 23.619 voti l'Anfiteatro Augusteo di Lucera si classifica a decimo posto della graduatoria nazionale e al secondo di quella regionale dell'edizione 2016 dei Luoghi del Cuore il censimento del FAI dedicato ai posti da non dimenticare Emanuele Facilongo Conclusa l'ottava edizione del censimento I Luoghi del Cuore con l'Anfiteatro Romano di Lucera classificatosi al decimo posto della graduatoria nazionale Il concorso quest'anno è stato dedicato all'archeologo Khaled Al-Assad direttore del sito di Palmira in Siria ucciso dall'Isis il 18 agosto 2015 per non aver voluto rivelare il luogo dove erano conservati alcuni antichi reperti dell'epoca romana Il FAI organizzatore dell'iniziativa ha voluto dare così un significato forte di drammatica attualità a un sentimento condiviso cioè l'amore per i luoghi che amiamo e il desiderio di proteggerli per il futuro Oltre un milione e mezzo sono stati gli italiani che hanno partecipato al censimento 2016 segnalando 33.264 luoghi dell'intera penisola toccando chiese, santuari, palazzi storici ed edifici civili ma anche abbazie, musei, castelli e reperti di archeologia industriale La Lombardia, la Puglia, il Veneto e la Toscana sono state le regioni più attive nel censimento I risultati dell'ottava edizione vedono al primo posto con 50.141 voti il castello di San Mezzano a Reggello vicino Firenze al decimo posto come detto con 23.619 voti lo splendido anfiteatro romano di Lucera In Puglia presente tra i primi posti anche il ponte romano sull'ofanto vicino Canosa classificatosi all'ottavo posto mentre vi è da segnalare la deludente assenza dei comuni dei Monti Dauni Ai primi tre classificati andranno dei contributi per la valorizzazione dei luoghi troppo poco in verità se si considera la portata nazionale del progetto che alla fine può considerarsi solo un evento mirato alla segnalazione delle bellezze culturali ed archeologiche d'Italia Rimaniamo a Lucera è fissato per sabato 4 marzo l'appuntamento con l'imprenditoria femminile di Capitanata in modo particolare quella legata alla produzione del vino con l'evento Divinamente Donne promosso dall'Associazione Nazionale Le Donne del Vino Sentiamo Donne di vino, donne di vine Non a caso Divinamente Donne è il nome scelto per l'appuntamento in Capitanata con la Festa delle Donne del Vino che si terrà sabato 4 marzo a Lucera alle 18.30 presso la Biblioteca Comunale San Pasquale Nata nel 1988 grazie all'intuizione della produttrice toscana Elisabetta Tognana l'Associazione Nazionale Le Donne del Vino conta ben 650 iscritte provenienti dal mondo dell'imprenditoria femminile legata alla produzione vinicola dal vigneto alla cantina dal mondo delle sommelier a quello della comunicazione 6 gli appuntamenti con l'Associazione in Puglia il 4 marzo tutti dedicati a storie di donne in modo particolare a Lucera Amarica Maggi socia di Le Donne del Vino in rappresentanza della Daunia organizzerà un dibattito che partendo dal settore vitivinicolo esplorerà a 360 gradi il mondo dell'imprenditoria femminile in Capitanata tante le donne di diversa età ed ognuna con il proprio bagaglio di esperienze chiamate a dare il proprio contributo a moderare la serata Giorgio Ventricelli giornalista e responsabile comunicazione di cantine Teanum arricchirà l'evento la mostra sul tema donne e vino che vede coinvolte le artiste locali Daniela De Lì, Antonella Tolve, Luisa Curato ed Azzurra di Virgilio Divinamente Donne si chiuderà con la degustazione dei vini delle cantine aderenti all'Associazione Le Donne del Vino C'è fermento a Monteleone di Puglia per il secondo premio internazionale per la pace e la non violenza organizzato dal Comune in collaborazione con il Centro Internazionale per la non violenza Mahatma Gandhi che si terrà mercoledì 8 marzo Sentiamo chi sarà il premiato della giornata Servizio di Grazia Bay E' tutto pronto per il secondo premio internazionale per la pace e non violenza organizzato dal Comune di Monteleone di Puglia e dal Centro Internazionale per la non violenza Mahatma Gandhi che si terrà mercoledì 8 marzo 2017 a partire dalle ore 9 presso la Sala Convegni dell'edificio strategico di Monteleone di Puglia La manifestazione, nata nel 2016 e giunta alla seconda edizione si colloca tra gli eventi istituzionali più importanti del Comune di Monteleone di Puglia Il secondo premio internazionale per la pace e non violenza andrà quest'anno ad Angelica Romano dirigente nazionale di Un Ponte Per un'associazione di volontariato nata nel 1991 che opera da 25 anni in Italia e Medio Oriente per promuovere pace, diritti umani e solidarietà tra i popoli e le stesse finalità animano il Centro Internazionale per la pace e non violenza di Monteleone istituito con la finalità di studiare e promuovere la cultura della non violenza nella gestione dei conflitti interpersonali, sociali e internazionali ispirati dall'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Durante la cerimonia interverranno inoltre Gabriella Maria Calderaro e Veronica Rodriguez Fernandez insieme agli studenti delle scuole del paese che presenteranno i laboratori creativi sulla madre terra e l'artista Walter Molli impegnato nella realizzazione di murales per Monteleone chiuderanno la cerimonia le conclusioni dell'onorevole Elena Gentile Ed un'altra donna, Anna Moreno di Faeto, sarà premiata il prossimo 7 marzo a Bari in occasione del riconoscimento Donne di Puglia il neonato premio ideato dalla giornalista di TG Norba 24 Daniela Mazzacane che accomuna le donne puntando alla crescita sociale e professionale delle rappresentanti pugliesi del gentil sesto La faetana Anna, ufficio stampa del piccolo comune franco provenzale sarà premiata per il suo impegno nella promozione del territorio del folklore e delle tradizioni dei montidani Ci spostiamo ora ad Alberona dove è tutto pronto per domani quando si terrà un incontro formativo di donazione e tipizzazione del midollo osseo promosso da ADMO La Regione Puglia nel 2016 è risultata al quinto posto nella classifica dei donatori Tony Osepa Pugliesi solidali fino al midollo è proprio il caso di dirlo questa volta La Regione Puglia nel 2016 è risultata al quinto posto nella classifica dei donatori del midollo osseo con ben 1390 iscritti Nel 2015 la Puglia era al settimo posto Ad Alberona sabato 4 marzo alle 17.30 presso l'auditorium Vincenzo D'Alterio si terrà un incontro formativo per la donazione e tipizzazione a cura dell'ADMO Nei giorni scorsi per sensibilizzare i giovani del paese a donare Alberona e l'ADMO hanno spedito ben 138 lettere personalizzate ai ragazzi del borgo con età compresa tra i 18 e i 35 anni Dare una parte di sé agli altri entrare a far parte della grande famiglia dei potenziali donatori di midollo osseo significa occuparsi degli altri Chi decide di tipizzare diventa una luce di speranza così recita la lettera che invita i giovani a partecipare all'incontro di sabato con esperti del settore autorità nel campo della ricerca e donatori L'invito, afferma il sindaco di Alberona Leonardo De Matteis è quello di partecipare e fare la differenza un donatore di midollo è l'unico al mondo in grado di salvare una vita umana E si è appena concluso il carnevale che nei piccoli centri dei Monti Dauni viene vissuto appieno ciascuno a suo modo i cittadini dei Monti Dauni scendono in campo con manifestazioni tradizionali e folcloristiche Vediamo cosa è successo a Biccari e a Volturino Paese che vai, carnevale che trovi Nei comuni dei Monti Dauni l'appuntamento più esilarante dell'anno è stato festeggiato in modi diversi Domenica 26 febbraio a Volturino è stato celebrato un matrimonio ad Zipep Carnevale a cura della proloco del paese con tanto di finto sindaco e sacerdote per le strade del paesino si è tenuto il matrimonio e la sfilata del corteo a partire dalle 15.30 alle 18 grandi e bambini si sono raccolti in largo panchina dove si è svolto il pranzo noziale a suon di musica A Biccari invece, martedì 28, ad essere celebrato è stato il funerale di Carnevale uomini in costume hanno ricordato gli ultimi istanti della vita di Carnevale un uomo abbuffatosi e poi per questo sentitosi male e morto la commemorazione ha fatto rivivere ai tanti biccaresi a corsi in piazza Torre tutti i passaggi esilaranti della morte dell'uomo dall'operazione al testamento al corteo funebre il tutto accompagnato da canti e lamentazioni in dialetto l'evento è stato organizzato dall'associazione culturale Agorart in modo particolare dagli storici agorartiani Lorenzo Bianco e Gianluca Grassi che hanno creduto sin dal principio in questo progetto coinvolgendo così molti giovani biccaresi In chiusura sentiamo da Fabio Lattuchella quali sono gli appuntamenti calcistici del fine settimana per le squadre dei Montidani Continua la rincorsa alla salvezza del Pietramonte Corvino in eccellenza molisana i rossoneri di Mister Torre devono vincere contro il Guglionesi per continuare la propria risalita dal penultimo posto in promozione molisana il Roseto andrà sul campo del Maronea mentre il Biccari alla disperata ricerca di punti utili per uscire dalle zone basse ospiterà il Vulcania la vittoria del campionato se la giocano un'altra Foggiana il Frentania di Serracapriola e il Boiano sempre nei campionati molisani in prima categoria il Casal Nuovo osserverà il turno di riposo l'Alberona sarà ospite del Fiammalarino e il Volturino avviato già verso la retrocessione giocherà in casa contro il Termoli 2016 in seconda categoria Celenze e San Marco Lacatola giocheranno in casa mentre il Casali Dauni andrà a Campobasso Sponda-Akli spostandoci in campania questa è la settimana del derby dei Monti Dauni tra Sporting Accadia e Artemisium Sant'Agata derby anche per l'altra squadra di Sant'Agata lo Sporting Team contro Lanzano mentre il Panni giocherà in casa contro il Rocca San Felice nei campionati pugliesi l'Ascoli Satriano proverà la nuova sorpresa dopo quella della settimana scorsa questa volta in casa contro lo Spinazzola a riposo il Celle in prima categoria mentre in seconda il Lucera andrà a Dischitella e il Troia ospiterà l'Accademia Sanicandro infine in terza categoria in casa Sant'Agata contro Zapponeta l'Orsara contro la Nuova Daunia derby tra Stella Azzurra-Troia e Deliceto mentre il Castelluccio sarà ospite del Real Foggia Io mi fermo qui, grazie per averci seguito e arrivederci Ciao! Grazie a tutti.